buonasera professor papassa buonasera a tutti oggi vi cosa fa l'uccello che uccello dipende siamo di doppio senso siamo l'uccello quello che vola con le ali spiega le ali oggi vi spiego come fare quando vi chiamo uno di quei call center se che metto le mazze che state mangiando vi chiamo la a proposito pronto un call center no e margherita che non conosco nessuna margherita mia moglie ma quale la 1 la 2 la 3 ma cos'è un quiz di mac buongiorno è che ne ho diverse capito come voglio la pizza la voglio come te fresca no capricciosa dove avevamo rimasti chi ci spiega cosa fare quando chiamo un call center ah esattamente quando vi chiamo un call center noi che siete tranquilli state riposando a casa questi vi chiamano e cominciano paga molto di come si dà quando c'è i soldi che sei al verde al verde che sei in bolletta paghi molto di bolletta passi energia pulita energia verde passi qui passi là oh mia sorella ha attivato sei già veramente due giorni addirittura eh e io mi hanno fregato lo stesso mi va a dire lei quanto paga di corrente mediamente da prendere 400 euro a bimestre e ti vai passi con noi vedrai quanto risparmia sai cosa è successo cosa è successo che adesso di bolletta ne pago due da 500 compreste tanto è vero che nel medesimo ho scritto una formula che dice c alla seconda uguale i per i per i quindi il calore al quadrato il calore al quadrato è call center uguale imbroglione a cubo ma no ma non dica così tra l'altro ho anche scritto un libro dal titolo il frastimario ma no e quando ci chiamano il call center così noi cosa facciamo prendiamo il frastimario e gli diciamo tutti qua ci sono tutti i frastimmi del mondo non ne facciamo neanche parlare come dicono vuole ta ti apre il libro c'è del tutto c'è tipo ne leggo qualcuno ma non vorrà leggere le maledizioni adesso ma l'ha detto lui e tutto sa generazione lua ma no anche di grucia su buggino e giustizia rispere vundi cioè sono per ogni gusto per ogni tipo capito tanto è vero che ho scritto anche la formula a me medesimo che ora vi leggo f uguale m per a per l per c per a per m a forza uguale è massa ma ta forza uguale è massa è frastimio uguale meglio a loro che a me arrivederci arrivederci prof